Outlast è un videogioco pluripremiato per molte qualità a livello di atmosfera, sceneggiatura, gameplay, ma soprattutto personaggi originali. La storia è molto semplice, siamo un giornalista di nome Miles che ha raggiunto il manicomio di Mount Massey, spinto dall'ambizione di raccontare al mondo i maltrattamenti che avvengono al suo interno. Dopo pochi minuti al suo ingresso, Miles deve subito avere a che fare con una macabra scena, il ritrovamento di Stevenson. Soldato della SWAT americano. Steffenson è stato attaccato dai mutati e impalato nell'abbiamo. Biblioteca probabilmente da Chris Walker. Qui ha incontrato Miles e in fin di vita gli ha consigliato di fuggire subito da questo posto, dal momento che non avrebbe mai potuto sconfiggere i mutati. Il nostro protagonista però è entrato proprio per scoprirne di più sui mutati, quindi facendosi coraggio, inizia ad indagare un po' dappertutto, scoprendo cosa si intende per mutati. I mutati sono ex pazienti del manicomio, che hanno perso la loro lucidità mentale a causa del progetto Wallrider. Tormentati da visioni come sciami brulicanti di insetti e tagli chirurgici purulenti dovute al Wallrider, i mutati sono completamente calvi e anche il loro corpo ha subito dei cambiamenti. Molti di loro, a causa del motore morfogenico, si dimostrano innocui, gusci privi di intelligenza, altri tendono ad attaccare se provocati e una buona parte di loro è aggressiva e consapevolmente cinica. Cercano addirittura di uccidere i loro simili, spesso per puro divertimento. L'ultima categoria di mutati, quella più aggressiva di cui abbiamo appena parlato, si è dimostrata incapace del semplice ragionamento di aprire una porta e tutte le volte che ne incontrano una la sfondano, o almeno cercano di sfondarla. I mutati parlano in modo confuso, senza pronunciare vere e proprie frasi, ma quando qualche vago discorso memorizzato da colloqui e terapie subite nel manicomio gli arriva in mente, riescono ad avere quei due o tre secondi di lucidità. Ed è proprio a questa categoria che appartiene Chris Walker. A questo punto della storia, Miles avrà il suo primo incontro con Chris Walker, che lo afferrerà dal collo, ma non lo decapiterà come tutti gli sfortunati visti prima, bensì lo lancerà al piano inferiore, dove si viene accolti da padre Martin, un paziente mutato a metà, se si può dire. O meglio, il motore morfogenico non ha avuto particolari effetti su di lui, e la sua parte lucida cerca di aiutare Miles nel documentare tutto ciò che può vedere. Dopo una serie di eventi, riusciremo a raccogliere una cartella di documenti. Con maggior precisione, si parlerà proprio del referto metico di Chris Walker, paziente del progetto War Rider. Il documento ci darà maggiori informazioni su Chris. Sappiamo quindi che l'inizio dei consulti è avvenuto nel 28 gennaio del 2011, ma questo referto medico è di un consulto di due anni dopo, ovvero del 28 maggio 2013. Chris ha 32 anni ed è un ex militare, prestò servizio in Afghanistan come soldato, riportando notevoli traumi mentali, come la fissazione prevalente di un'esagerazione maniacale dei protocolli di sicurezza militari. Chris Walker era un mutato dalla forza incredibile, che gli permetteva di abbattere porte con facilità e staccare teste con solo l'uso delle mani. In sovrappeso, con denti sempre esposti, non potendo chiudere la bocca per via delle due placche in metallo sulla mascella, portava dei semplici pantaloni e alcune catene su polsi e caviglie. Sporco di sangue e privo di naso ha dimostrato comunque una grande capacità investigativa, essendo riuscito a seguire e localizzare Miles ovunque. E poi vediamo che si riferisce agli altri chiamandoli porcellini, topolini o fantasmini, probabilmente per paragonarli a delle prede, altro segnale che la guerra gli ha cambiato probabilmente tutta la mente. Letto il documento, Miles avrà un altro incontro con Chris, ma fortunatamente riuscirà a non farsi individuare, nascondendosi in un armadietto. Se tireremo fuori la telecamera in questo punto del gioco, potremmo notare che il protagonista prenderà appunti. Aprendoli potremo leggere queste parole. Il cazzone mi sta seguendo. Ho trovato la cartella di un certo Chris Walker, ex poliziotto militare, che è stato parecchie volte in Afghanistan. Molto del sangue versato qui dentro è per mano sua, ma non tutto. Miles infatti ci aveva visto lungo. Aveva ragione, tutto quel sangue non era stato versato a causa di Chris. Ma comunque, continuando la storia dell'ex poliziotto, lo ritroveremo anche nelle prigioni, dove ci darà filo da torcere insieme ai gemelli, che cercheranno ancora di ucciderci. Ma non trovandoci, Chris decapiterà un agente che trova lì per caso. Più volte Chris Walker cercherà di prenderci, arriverà addirittura nelle fogne. Ma perché? Perché essere così ostinati nel raggiungere una persona che potrebbe benissimo morire a causa degli altri duemila e passa pazienti? Ancora una volta non avremmo risposta e saremo costretti a scappare per le fogne, raggiungendo le docce femminili e maschili, riuscendo a tornare infine nel manicomio. Durante questo lasso di tempo incontreremo Richard Trager, che come sappiamo tutti ci priverà delle falangi di alcune dita, per poi morire per una sua distrazione. Arrivati nel cortile, troveremo di nuovo Chris, che ci seguirà ancora una volta, arrivando a darci la caccia addirittura quando ci troveremo nei dormitori dei pazienti. Ma Miles lo aggirerà da una finestra e riuscirà a raggiungere i laboratori. Ed è proprio qui che il nostro amico incontrerà la morte. Finalmente Chris Walker troverà Miles, ma mentre tenterà di ucciderlo, il Warride lo colpirà alle spalle e lo ucciderà brutalmente, infilandolo in un condotto dell'aria. Ecco, soffermiamoci su questo. Tutto ciò che ha fatto Chris, secondo voi, è giusto? È giusto ciò che ha fatto? Vi siete mai chiesti il perché uccide senza pietà? Beh, voi penserete. Perché è matto Chroma, ovvio. Ma invece ha intrapreso una crociata personale, decapitando qualunque individuo gli capitasse a tiro, solo per cercare di contenere il Warride. Evitando così che si risvegliasse, escludendo tutti gli impiccioni e ficcanaso che volevano sapere di più sul manicomio e documentare i fatti rendendoli pubblici. In questo modo, il Warride non si sarebbe agitato. Alla fine però, con la sua poca lucidità, qualcosa di buono stava facendo. Salvare tutte le persone all'esterno del manicomio, uccidendo qualsiasi intruso. Ma Miles ha fatto arrabbiare il Warride, liberando questo spettro invincibile. Bene, ora che sapete come sono andate realmente le cose, chi è il cattivo in Outlast? Miles, che ha liberato lo spettro per tutto il mondo, come vediamo anche a fine Whistleblower? O Chris, che ha tentato di tenerlo calmo per tutta la sua permanenza al manicomio?